Parete mia, che pittura fluida, il rullo scivola via! Il più facile e veloce? Sigma Coatings, un colore intenso, perfetto! È Sigma Expert, una volta asciutta, pittura super uniforme, ogni imperfezione sparita! Super opacità! Non c'è parete che mi resista! Sigma Expert, tocco vellutato! Oh no! Anche al lavoro finito, ritucchi senza segni di ripresa, zero imperfezioni, zero stress! Sigma, il tuo risultato vale! Scopri la pittura expert e la sostenibilità certificata su sigmaexpert.it